E' bello ragazzi Chiaren e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo qui con Angelo, Zuel e Luigi Necovid Bello ragazzi Ciao da me Covid Bello ragazzi Oggi vi porto un mini easter egg nella nuova mappa Dime Machine di Cold War In cui sbloccheremo appunto il Juggernaut gratis Vi faccio vedere subito come fare Innanzitutto vi servirà un'arma a punto razio Dobbiamo prendere delle palline che trovano tipo la stossa Allora partiamo La pallina che mi sembra che sono 6 La prima pallina si trova qui Davanti la stanza dell'energia La seconda la troveremo qua sotto Allora la terza dobbiamo scendere sotto le scale Spagapanji E si troverà esattamente dentro questa barricata L'altro spazio sarà qua sotto le scale In mezzo a questi macchinari Allora questo qua in veria lo potete prendere anche col fono Ecco Una volta che cadrete finiti tutti gli spot Vi manderà l'animazione nell'Ether E vediamo subito Cosa succede? Loro sono grandi Vamos Guardate quelli là sotto cosa fanno Oh Dio Uè la? Uè la? Potrei impazzire Che ragazzi mai visto un easter egg del genere? Finora credo è il migliore mai creato seriamente Eeeh io mi ne voglio Sì molto divertente Da un po' di sfogo ci sta Però ne escono altri Sti ministri Praticamente una volta finita questa anima scariciamo ci riposterà di nuovo nel presente E potremo aprire questa cazzo Voi allontanatevi che devo fare vedere poi la vita Sì sì venite qua venite qua Ci teleporto direttamente qua Venite da me Raga venite qua Dov'è l'altro? Abbiamo perso un soldato Abbiamo perso un soldato Dov'è andato? E' morto E' morto E' morto Sì Sei andato a ballare con gli altri zon Sì Cazugno Ok ci lasciano questa cazzo dorata La apriamo Unusus 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 Qui c'è il juggernaut In teoria era leggendario Non so per se sia epica Lo prendiamo E' un bel jug In teoria ci può droppare anche la La wonder weapon E' la ray E' capito Il progetto Il video Il risultato E' tutto Bella E poi vi chiamo un prossimo video Bella Ciao 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 Grazie a tutti.